Ho appena finito registrare il video di una nuova stagione, adesso devo buttarci dentro qualche clip e fare un mini edit per iniziare. Bentornati sul canale, eccoci qua con un nuovo video, è bello tornare a dirlo dopo così tanto tempo, a causa di vari impegni universitari e non, e vacanze eccetera, non sono proprio riuscito a continuare a proseguire con la mia classica scaletta di upload, ma eccoci qua per la stagione 2019-2020, carichi perché ho una serie di novità da annunciarvi e vi racconterò cosa potrete aspettarvi da adesso in poi su questo canale. Non aspettatevi che migliori a parlare con la telecamera perché sarò estremamente imbarazzante ancora per molto tempo. In ogni caso, torniamo noi. Il canale sarà costituito da quattro pilastri, il primo sarà il vlog. Il vlog andrà ad accorpare alcune delle serie che non ho portato avanti come avrei voluto, ossia quelle dei backstage, quelle dei making of, quelle dei tutorial, e andrò a cercare di accorpare appunto queste serie e portarle in questo pilastro che è il vlog in cui andrò appunto a mischiare intrattenimento con qualcosa di diciamo più educativo. Spero vi piaccia l'idea e il primo vlog sarà appunto su uno degli altri pilastri che vi andrò ad elencare a breve. Secondo pilastro saranno ovviamente gli edits. Ho iniziato con quelli, sono una forma d'arte che a me onestamente fa impazzire per cui proseguirò a portarveli e spero di potervi portare anche qualcos'altro al progetto live di cui avevo parlato. Se non sapete di cosa sto parlando andate a vedervi il video Il Futuro che feci un bel po' di tempo fa. Nel frattempo sta iniziando a piovere. Terzo ed ultimo pilastro video sono le nostre competizioni, le nostre portrait competitions. L'anno scorso sono andate molto bene e sono molto contento che vi siano piaciute per cui proseguirò con la seconda stagione di queste competizioni. Quest'anno però c'è un cambiamento sostanziale, nel senso che non andrò sempre a partecipare io ma bensì avrò anche due fotografi che si sfideranno e io sarò semplicemente il conduttore e andrò ad occuparmi del video. Questo perché voglio rendere anche tutto un po' più informativo e magari integrare delle interviste, magari integrare appunto quello che non riuscivo a dare occupandomi sia delle foto che del video. Non temete, andrò a partecipare anche io, però sarà appunto un mix tra le due cose. Magari avremo anche un host all'esterno quando andrò a partecipare io nella competizione. Ma questo poi si vedrà e vi annuncerò tutte le novità in futuro. Comunque preparatevi per questa seconda stagione perché la qualità si alzerà ulteriormente, sto lavorando per alzare appunto la qualità di questa serie e in generale la qualità del canale e spero possiate tutti quanti apprezzare. Il quarto ed ultimo pilastro sarà il podcast. Il podcast non è neanche un podcast, è un podcast. Non so più parlare. Il quarto pilastro sarà il podcast. Ebbene sì, ho deciso anch'io di lanciarmi sul podcasting, è un mondo che mi ha sempre affascinato, sono un grande consumatore di podcast da un paio d'anni ormai, da quando insomma c'è stato questo boom dei podcast, ho deciso di buttarmi anche io. Ho fatto qualche test col podcasting l'anno scorso e spero vi possa piacere questa idea. Per adesso non vi rivelo granché, vi rivelo soltanto che sarà sia video che audio, inizierà inizialmente ad essere, inizierà inizialmente, inizialmente sarà semplicemente audio, poi arriveremo ad avere anche il formato video, questo perché sto lavorando appunto alla creazione del set per registrare questo podcast, per cui andremo a fare un podcasting che sarà sia video che audio e il video arriverà, si spera, entro gennaio, altrimenti giù di lì, insomma qualche mese dopo, ma si spera entro gennaio di avere tutto pronto. Non vi rivelo nient'altro perché il primo vlog sarà appunto il making of del podcast, per cui lì vi spiegherò tutti i vari dettagli, vi dico soltanto... Per quanto riguarda la cadenza di questi contenuti, con il podcast fortunatamente riesco ad arrivare a 4 contenuti al mese, per cui un contenuto settimana, per cui ci sarà un video ogni due settimane come al solito e un podcast ogni due settimane, per cui alternerò un video e un podcast ogni settimana. Tra un po' inizierà a sentirsi la pioggia nel microfono perché si sta intensificando e per fortuna vi ho detto tutto, per cui grazie mille per l'attenzione, intanto in questo video c'è un easter egg, se riuscite a scoprirlo e a trovarlo commentate qua sotto così potete vincere dei preset. Condividete il video, se il video vi è piaciuto lasciate un like così l'algoritmo di YouTube inizia ad apprezzarmi e niente, iscrivetevi al canale, è gratis e senza olio di palma, io vi ringrazio come al solito per la visione e niente, noi ci becchiamo alla prossima!